Ciao a tutti ragazzi, io sono Sofia. Oggi ti volevo far vedere io che faccio un nuovo sport. Io prima di tutto faccio pattinaggio con quattro rotelli qui e quattro rotelli qui. E dopo faccio anche cavallo e oggi vorrei provare a fare box. Ora ti vorrei mostrare come faccio box, è la prima volta, quindi vorrei anche io provare. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ho provato questo sport, era un'emozione veramente strana. Quando dai i pugni ti sembra che sei un po' troppo cattiva perché non sei abituata a dare dei pugni. Quindi per me è stata questa emozione. Spero che il video di oggi sia piaciuto. Mettete tanti like. Io sono Sofia Scoprimondo. E tra un po' ci rivedremo con il pattinaggio artistico con i video e anche il cavallo con altri video. Ciao.